Musica Benvenuti al nostro TG Sport cari amici di Telemolisi In apertura vogliamo fare degli auguri ad una persona davvero speciale tra l'altro una mia cugina Mena Di Lallo che proprio oggi festeggia il suo 92esimo compleanno Mena è stata un'insegnante elementare sempre molto attenta sempre molto disponibile nei confronti non soltanto degli alunni ma anche dei suoi colleghi e quindi di tutto il mondo della pubblica istruzione è stata una moglie attenta e rispettosa della famiglia ed è stata soprattutto una mamma davvero geniale perché in alcuni momenti della sua vita ha saputo offrire tutto il suo supporto alle figlie e quindi una persona che io ho sempre considerato molto vicina perché insomma ci sono dei parenti che spesso non si vedono ma invece Mena è stata sempre presente nella mia vita e mi fa piacere tra l'altro che lei segue sempre attentamente queste trasmissioni dove in realtà c'è suo cugino e questo ha sempre rappresentato un motivo d'orgoglio per lei di questo la ringrazio sinceramente e le sono francamente devoto per cui in questo giorno speciale che segna un traguardo importante ma che insomma rappresenta anche un momento per il futuro ebbene in questo giorno speciale voglio davvero augurare a Mena tutta la fortuna che ci vuole anche in queste circostanze e soprattutto una vita densa ricca di emozioni che so perfettamente che è stato sempre un suo obiettivo di vita quindi tanti auguri a Mena, tanti auguri alle figlie Elvi e Luciana e al nipote Giorgio che certamente condivideranno questo momento di felicità questo momento insieme a lei quindi un augurio specialissimo da parte mia e da parte di tutta la redazione sportiva di Telemolise adesso il calcio a 5 Per il campionato di Serie A2, girone C, quinta giornata si giocano Budog, Lucrezza, Tombesi, Ortona, Cusso, Molise, Fuzz al Cobar rinviate invece Pistoia, Manfredonia, Fuzz al Capuzzo, Castelfidardo si giocano sempre domani Giovinazzo, Rutigliano e Visgubbio, Atletico Cassano Per il girone B, ancora turno di riposo per la Chaminade si giocano solo due gare e precisamente San Michele, Itria e Sporting Venafro, Torre Maggiore Domani al Pala Unimol è in programma la sfida tra il Cus Molise e la Fuzz al Cobar Quinta giornata di campionato nel torneo di A2 di Fuzz al il CLN Cus Molise riceve al Pala Unimol i marchigiani del Fuzz al Cobar momento sicuramente particolare non solo per il calcio a 5 ma per tutto lo sport nazionale in settimana con una lettera congiunta 11 club tra cui Atletico Cassano, Fuzz al Capurzo e Rutigliano del girone del CLN Cus Molise e Aquile Molfetta, Barletta, Bitonto, Fuzz al Club Canosa, San Michele e Mirto militanti insieme alla Chaminade nel girone G di Serie B queste società hanno chiesto alla divisione calcio a 5 di sospendere i rispettivi campionati per una serie di motivazioni se da un lato le motivazioni sono condivisibili vedi protocollo troppo leggero che favorisce i furbetti a non scendere in campo dall'altro le società hanno palesato delle difficoltà che erano ben note all'inizio di questa stagione ad esempio le porte chiuse, i mancati incassi le sponsorizzazioni che latitano il rischio di avere rose con assenti per covid i rischi da assumere nello svolgere attività sportiva insomma non ci diciamo nulla di nuovo condizioni chiare dal primo momento in cui si è deciso di iscriversi al campionato la divisione nazionale calcio a 5 ha tirato dritto in attesa del nuovo protocollo presto operativo per il mondo dei dilettanti ricordiamo che il calcio a 5 rientra nella sfera della LND si va avanti dunque domani alle 16 regolarmente in campo CLN Cusmolise contro il Fuzz Alcobà i Cussini arrivano in ottime condizioni tre vittorie in quattro uscite di campionato ultima in ordine di tempo sabato scorso a Castelfidardo la squadra di San Gennaro vuole tornare a vincere in casa dopo il passo falso contro in Manfredonia lo stato fisico e mentale della Rosa è alto il tecnico Campobassano può contare su tutti gli effettivi per affrontare il team di Porto San Giorgio gli Sharks, questo è il soprannome del team della provincia di Fermo sono scesi in campo una sola volta in questa stagione precisamente alla seconda giornata contro i Bulldog di Lucrezia gara terminata sul 3 a 3 poi tre rinvii dovuti ovviamente a dei casi di positività al Covid-19 una squadra che non ha ancora effettuato il cosiddetto rodaggio elemento che potrebbe favorire il Cusmolise al contrario la voglia e l'entusiasmo nel tornare in campo è senza dubbio un punto in favore della squadra guidata da coach Leonardo Campi-Fioriti da tre anni alla guida degli Sharks roster di esperienza tra tutti il pivot italo-brasiliano Luis Borsato il laterale sempre verde-oro Michael Svierkowski ed il laterale spagnolo Ugo Bernaddez tre giocatori oltre i 30 anni che da una vita navigano nel futsal italiano d'elite un roster da prendere con le molle per Barichello e compagni pronti a lottare per mantenere i piani altissimi della classifica ovviamente ci sono tanti recuperi da giocare detto questo la posizione da vicecapolista è il giusto premio per una società che ha saputo programmare e investire nel modo giusto una società capace di crescere anno dopo anno con la volontà di confermarsi a livello nazionale secondo turno di riposo per la Chaminade Campo-Basso nel torneo di Serie B nel girone G sabato scorso si sono giocate due gare su cinque anche qui i rivii sono all'ordine del giorno al contrario la Chaminade non è scesa in campo e non giocherà neanche domani per una mera casualità dovuta al calendario probabilmente uno stop arrivato nel momento migliore anche per vedere l'evolversi della situazione dovuta all'emergenza allenamenti nel rispetto delle normative vigenti per la società Rosso-Blu in attesa di rientrare in campo sabato prossimo 21 novembre in casa delle Aquile Molfetta Pallacanestro questa mattina a Roma la 48esima assemblea generale elettiva e la 49esima assemblea straordinaria si sono riunite per le modifiche allo statuto lo spoglio delle schede è previsto per martedì 17 novembre candidata come consigliere nazionale federale il dirigente della molisana basket Rossella Ferro calcio di serie D 10 recuperi in programma nel prossimo fine settimana intanto le società restano in attesa del nuovo protocollo per proseguire la stagione il movimento della LND è in attesa per conoscere le novità provenienti dai palazzi riguardo la modifica da attuare al protocollo la speranza ma anche l'unica strada che sembra percorribile è quella di renderlo il più possibile simile a quello scritto per i professionisti con i dovuti raffronti staff dirigenziale della LND a lavoro su questo fronte novità ormai posticipate alla prossima settimana tutto questo mentre i piani della Lega di recuperare un monte gare non disputate sono saltate anche per il fine settimana imminente secondo il comunicato ultimo si sarebbero dovuti giocare 33 incontri domenica 15 novembre ad oggi se ne dovrebbero giocare continuiamo ad usare il condizionale soltanto 10 partite sparpaiate nei vari raggruppamenti una media di una gara a girone ed il meccanismo programmato dalla Lega a questo punto è andato a farsi benedire l'evenienza del positivo sospetto contagiato in squadra dà luogo ad una serie di effetti che portano ad una paralisi della società in questione di almeno 10 giorni il tempo della quarantena a proposito dei tamponi diciamo che il Vasto Girardi ha ricevuto l'esito ci sono 4 casi di positività fra i tesserati dopo quello riscontrato 10 giorni fa nessun allarme in casa degli Altomolisani anzi la dirigenza si sta adoperando per consentire la ripresa degli allenamenti da parte dei giocatori negativi dunque a giorni sapremo il programma degli allenamenti del Vasto Girardi mentre i 4 positivi proseguiranno l'isolamento in casa del Campobasso invece si rimane in attesa del risultato dei test molecolari soltanto a seguito dell'esito la dirigenza potrà deliberare in merito alla ripresa dei lavori ricordiamo che il Campobasso è fermo ormai da 9 giorni a questa parte che ha subito anche il secondo rinvio consecutivo della trasferta contro l'Alba Longa ad oggi la società Rosso Blu dopo il forte comunicato stampa emesso qualche giorno fa rimane in una situazione di stand by la Lega Nazionale di Lettanti comunica altresì che gli allenamenti congiunti sono equiparati a tutti gli effetti a delle amichevoli ragione per la quale l'organizzazione di amichevoli o tornei devono essere autorizzate dai comitati dalle divisioni e dai dipartimenti di appartenenza testa al campo un po' quello del Ferrante per il Matese che affronta un'altra gara interna dopo l'ultima giocata il primo novembre scorso contro il Castelfidardo dall'altra parte ci sarà un'Aprilia che invece causa numerosi casi di contagio registrati fra i tesserati ha giocato soltanto tre partite su sei da calendario e non scende in campo addirittura dall'11 ottobre scorso cioè da più di un mese un motivo in più per approfittarne da parte dei ragazzi di Corrado Urbano il Matese ha tutta l'intenzione di alimentare la propria classifica sono in prova un portiere classe 99 si tratta di Matteo Palumbo ex Lega Pro la scorsa stagione potrebbe tornare disponibile per l'esordio Mario Barone centrocampista classe 84 che ha deciso di vestire la maglia bianco-verde sposando il progetto del presidente Rega Matese Aprilia sarà l'unico recupero giocabile nel girone F Rieti-Porto-Santelpidio infatti è stata rimandata a data da destinarsi L'Olimpia agnonese è a lavoro al Civitelle in attesa di riprendere il campionato anche la squadra Juniores ne abbiamo parlato con il tecnico Mario Fusaro tecnico della Juniores dell'Olimpia agnonese è un momento particolare per lo sport in generale per il calcio figuriamoci maggiormente per i settori giovanili dove comunque ottemperare a dei problemi è sempre insomma non è sempre alla portata è una sola partita per voi insomma tanto distacco poi tra allenamenti e varie vicissitudini Sì sì di fatto è un grosso problema noi già siamo partiti in ritardo perché per questione del Covid non volevamo iniziare proprio l'anno diciamo 19 che sarebbe la Juniors nazionale sarebbe poi c'è stata la nuova società che ha voluto che iniziasse ma abbiamo iniziato in ritardo e purtroppo poi abbiamo fatto la diciamo dopo di due giorni abbiamo fatto la prima partita che sarebbe stata la seconda del campionato e poi ci hanno sospeso completamente in modo che aspettiamo con i recuperi se si riesce a fare qualcosa anche se ho qualche dubbio Avete un recupero ad oggi il 23 novembre contro il Castelnuovo Vomano? Sì sì abbiamo questo recupero che sarebbe stata la prima partita che noi l'abbiamo rimandato perché non eravamo pronti e poi abbiamo un altro recupero con la Vastese poi aspettiamo però torno a ripetere come stiamo è difficile io di fatti do pure una mano alla prima squadra e poi faccio un po' di juniors per questi ragazzi che sono la buona parte di Agnone Possiamo dire però che la nuova proprietà ha dato manforte ma soprattutto ha risollevato un po' le sorti anche a livello di morale ci sono più motivazioni per lavorare? No no diciamo che la nuova società attualmente è una società di calcio cioè presente in tutti gli aspetti sotto tutte le forme diciamo che di fatti era partita con la scuola calcio che prima non si faceva la juniors nazionale è la prima squadra dove ha cambiato quasi tutto diciamo tutti i giocatori precedenti è presente insomma ha rinnovato una buona squadra Possiamo dire con la sospensione anche della juniors c'è forse più spazio proprio per qualche ragazzo per essere visionato? Sì sì senz'altro però io mi auguro che si riprenda la juniors perché ci stanno parecchi ragazzi di Agnone che hanno possibilità di giocare futuramente diciamo nel futuro anche in prima squadra Un'ultima cosa per quel che riguarda i protocolli insomma a prescindere dei dilettanti su quello del settore giovanile crede che insomma bisogna bisogna un po' ci deve essere un'emulazione completa? Sì sì noi bene o male lo applichiamo però ci vuole io credo che a livello nazionale sia per i ragazzi che per anche la serie D devono fare un protocollo dove se c'è stato un positivo non si può rinviare una gare nel senso dopo di due o tre però fare il protocollo non dico come da serie A ma più o meno se no chiudono è meglio chiudere Grazie Attivo il sostegno del governo ricordiamo che fino a martedì prossimo le SSD e le ASD titolari di un contratto di locazione potranno collegarsi al sito www.sport.governo.it per presentare istanza di rimborso per le spese di affitto e per un contributo per le spese di utenze e per eventuali costi sostenuti per le sanificazioni chi ha già ricevuto il fondo perduto la scorsa volta non deve ripresentare la domanda perché lo riceverà automaticamente l'ultimo decreto del Presidente del Consiglio ha interrotto l'attività delle sale fitness e dei corsi di gruppo organizzati nella struttura di Michele Ricciardi una delle più accreditate su tutto il territorio regionale è rimasta regolarmente aperta l'area fisioterapica che ha ampliato anche la sua offerta con il D-Wall macchinario ad alta definizione tridimensionale che permette di svolgere esercizi di potenziamento muscolare e riabilitativi tutto nella massima e corretta postura allora Francesca Carbone specialist di Tecnobody dunque D-Wall novità anche alla palestra fisioterapica Ricciardi riassumici un po' questo strumento rivoluzionario sistema all'avanguardia ad elevato contenuto tecnologico esegue una parte iniziale di valutazione una parte successiva di rieducazione funzionale naturalmente la valutazione tramite oggettivazione del dato quindi sistema che ci permette di valutare i nostri pazienti e di vestirli addosso un abito quanto più regolare possibile la rieducazione funzionale avviene tramite l'oggettivazione di alcuni parametri tra cui range di movimento simmetria del carico spostamento del centro di pressione nello spazio andiamo a lavorare sia con pazienti ortopedici neurologici sia con soggetto sportivo e soggetto in fase adolescenziale non solo per le persone magari giovani ma anche per le persone di una certa età questo è uno dei pochi sistemi che prende sia il lato riabilitativo ma anche lo sport performance quindi con questo sistema è possibile valutare ed educare atleti di alto livello la macchina il d-wall rileva tutti i movimenti esattamente questo è un sistema anche il carico magari su un piede o su un altro insomma assolutamente simmetria del carico su uno squat su un affondo magari su una military press ma anche su semplici esercizi di controllo dell'equilibrio per particolari pazienti neurologici ed ortopedici ecco tu puoi dirlo sicuramente meglio di me ma questo vuol dire soprattutto prevenire le patologie perché si lavora nella postura corretta assolutamente sì la prevenzione è proprio il primo step affinché la qualità della vita sia elevata e quindi il centro della palestra fisioterapica Ricciardi si è dotato di questo strumento chiaramente il periodo non è dei migliori quindi va dato anche atto insomma merito assolutamente assolutamente la palestra Ricciardi merita un grandissimo applauso perché chi investe verrà sicuramente ripagato in un secondo momento e quindi disponibile il D-Wall è disponibile qui con tutti i trattamenti con gli allenamenti mi raccomando venite perché è tanta roba ginnastica ritmica domani a San Giorgio a Cremano in programma la terza prova del campionato di zona tecnica 5 serie C a squadre che vedrà la partecipazione di atlete dello sporting Bovianum e della Futur Gym di Termoli Pallapolo la formazione del Custo Molise ha rinnovato staff tecnico e organico tra i riconfermati protagonisti del salto di categorie in serie C Cannazza Cannazza una conferma importante in vista della prossima stagione una serie C sicuramente complicata che stagione ti aspetti ma sicuramente sarà una stagione difficile perché ci dobbiamo adattare al periodo storico che stiamo vivendo però penso che possiamo fare bene perché sono arrivati tanti giocatori forti giocatori di questa serie C l'hanno vinta quindi siamo tenuti a fare bene in questo campionato ecco tu sei a proposito di vittorie sei anche tu esperto visto che con questa maglia hai già ottenuto traguardi importanti è cambiato qualcosa nell'Energy Time Cusmonise Volley il lavoro procede abbastanza bene dove pensi si potrà arrivare con il supporto e l'aiuto di tutti ma il lavoro procede bene stiamo facendo una buona preparazione fisica io sto qua da sei anni mi sono sempre trovato bene la squadra è cambiato tanto negli anni e adesso è cambiata anche parte della dirigenza noi vogliamo provare a vincere questo campionato speriamo di riuscirci ecco un passaggio credo doveroso anche per quando riguarda la guida tecnica è arrivato un allenatore di esperienza come Mariano Maniscalco cosa vi ha trasmesso finora e cosa a tuo avviso potrà ancora dare alla squadra Mariano è un grande allenatore l'abbiamo visto l'anno scorso sulla panchina di Agnone penso che ci potrà dare sicuramente degli stimoli nuovi poi un grande allenatore quindi un grande tecnico molto forte campionato in generale per te che giochi da tanti anni come come lo giudichi cosa ti aspetti ci stanno sicuramente tante squadre forti noi sarà una stagione difficile ripeto perché comunque già è stato rimandato l'inizio del campionato speriamo non venga rimandato di nuovo sarà difficile allenarsi perché bisogna tenere conto di tutte le difficoltà legate appunto al periodo però speriamo si inizi al propesto ecco sport ma non solo al Cusmo lì se anche la prevenzione è una cosa che va di pari passo con il campo siete attentissimi anche a questo aspetto sì assolutamente siamo molto attenti non è facile essere sempre attenti o comunque non fare le docce post allenamento però ci dobbiamo adattare purtroppo perché il periodo è questo Calcio giovanile attività bloccata per la scuola calcio Santissimi Pietro e Paolo la stagione dei giovanissimi regionali era regolarmente partita appena tre le gare disputate prima dello stop ne abbiamo parlato con l'allenatore Francesco D'Angelo allenatore dei giovanissimi regionali della polisportiva Santissimi Pietro e Paolo Termoli siete partiti siete partiti anche col piede giusto tre giornate due belle vittorie importanti per un gruppo che si sta costituendo strada facendo sì siamo partiti bene poi ci siamo dovuti fermare a cause forze maggiori ci stiamo comunque condimando ad allenarci si fa il possibile ovviamente mantenendo le distanze però l'importante è non fermare del tutto la macchina sperando che si possa iniziare il prima possibile per te il primo anno con questa squadra l'anno scorso avevi i provinciali diciamo che sono i provinciali dell'anno scorso che sono scalati i regionali giusto? sì è da un po' di anni che stiamo lavorando con il Biagno quindi partiamo con il provinciale per poi portarci l'anno successivo al regionale quest'anno tocca il 2006 un buon gruppo si lavora bene speriamo appunto di riniziare perché c'erano tutti i presupposti per fare bene oggi tu sei uno degli allenatori più giovani della Polisportiva Santissimi Pietro Paolo di Terme hai lasciato il calcio giocato per allenare è una dote che hai quello di allenatore tra l'altro sta facendo anche molto bene sì ormai sono già sette anni che sto qui a San Pietro sono entrato a far parte di questa famiglia poi è bello tornare dove si è cresciuto noi sia io che Massimo Ricci che Moreno Manginone siamo tutti cresciuti qui nella Polisportiva ci siamo rientrati in altre vesti ballo ritrovare poi colleghi come Lino Miele che ti hanno allenato adesso li ritrovi al tuo fianco stessa cosa il Presidente De Filippis che c'era quando eravamo piccoli noi e ce lo ritroviamo anche ora ed è davvero bello senti gli allenamenti sono ridotti o quasi sono ridotti proprio a Lumicino molti lavorano per i fatti propri nella speranza di poter riprendere ma soprattutto per tenersi in forma proprio per un'eventuale riapertura sì noi speriamo che con l'anno nuovo si possa riniziare stiamo comunque continuando ad allenarci si lavora mantenendo le distanze seguendo il protocollo e dai si fa quel che si può per cercare di non bloccare del tutto la macchina anche perché questi ragazzi già sono molto penalizzati dalla stagione successiva hanno tanta voglia di fare quindi cerchiamo di andare avanti bene è tutto per questa edizione del nostro TG Sport buon pomeriggio buon pomeriggio per l'eventuale per l'eventuale per l'eventuale